Le cose da fare sono tante, tantissime, ma sento di poter dire che stiamo cominciando a cambiare davvero il Paese. A partire da settembre ci aspettano sfide importanti, cruciali per rilanciare il Paese e la nostra economia. Per farlo abbiamo in cantiere una serie di riforme strutturali fondamentali per la crescita economica e lo sviluppo sociale, una serie riforma del codice degli appalti, una semplificazione normativa e burocratica per togliere i vincoli che oggi imbrillano il Paese, misure anticorruzione importanti anche agli occhi degli investitori internazionali, un'accelerazione del sistema giustizia, dei processi civili e in particolare esecutivi e poi la digitalizzazione all'interno dei servizi pubblici, l'interconnessione tra pubbliche amministrazioni e poi ovviamente la riforma fiscale, il reddito di cittadinanza, punti qualificanti del nostro programma di governo. Faremo una manovra seria, rigorosa ma anche coraggiosa che non toccherà settori strategici come sanità, scuola, ricerca. Adotteremo tutte le misure necessarie per combattere la povertà assoluta in cui versano 1 milione e 778 mila famiglie e un totale di oltre 5 milioni di persone. Siamo al lavoro, rimaniamo concentrati su questi obiettivi. Tengo ad augurare a tutti voi buone meditate vacanze.